Sono diminuite a causa comunque degli eventi sismici e nevosi dei primi mesi dell'anno 2017. Si prevede di arrivare, secondo la propensione attuale, a circa 15-16 mila verbali rispetto ai 20 mila dell'anno scorso. L'attività del comando è ripartita pienamente nei mesi di aprile, per cui tutte le violazioni al codice della strada sono comunque ritornate ad essere l'obiettivo del comando di polizia municipale e prevalentemente quelle che comunque colpiscono le categorie deboli, quindi i pedoni, le mamme con i passeggini, diversamente abili, che come abbiamo visto dalla certificazione dei dati in atti al comando, o comunque sono ancora molteplici le infrazioni che vengono effettuate da persone che occupano abusivamente lo stallo riservato alle persone diversamente abili. I verbali vengono principalmente redatti dalla ZTL, quindi in uso al comando di polizia municipale, quindi è un accertamento di tipo automatico. A seguire sono circa 2000 accertamenti per autovelox, mentre comunque le vie delle città più moltate continuano ad essere quindi la circonvalazione Ragusa, Piazza Italia che comunque è la zona dell'ospedale dove spesso i vigilantes ci chiamano perché comunque la corsia del pronto soccorso è impegnata da persone che la occupano abusivamente con pericolo per l'appunto delle ambulanze che non riescono ad andare a portare comunque i feriti nel pronto soccorso. Abbiamo via Paris che è la zona dell'anfiteatro che è molto battuta, Piazzale San Francesco, via Dati vicino a Ruzzo che è là costantemente la sosta abusiva e dilagante.